L'aeroporto di Fiumicino in partenza per Atene, tempo di vacanza finalmente, andiamo ad Atene dove parte una vacanza crociera, check it out! Adesso stiamo andando al marina, dall'aeroporto dove raggiungiamo i nostri amici, dove c'è la barca, da lì si parte per la vacanza. Adesso stiamo andando al marina, dall'aeroporto dove c'è la barca, da lì si parte per la vacanza. Adesso stiamo andando al marina, da lì si parte per la vacanza. Chocolatia! 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 Grazie a tutti.